Un grandissimo piacere per me essere qui oggi con Tita Castiglioni all'interno del GIM 2019. Tita Tuoi ha fatto un grandissimo lavoro per quanto riguarda la raccolta dei dati GISE nazionali che sono, ricordiamo, tra l'altro disponibili ed aperti a tutti i soci sul nostro sito societario. Ci puoi parlare più nel dettaglio dei dati appena raccolti, di come questi possano aiutarci anche nell'interazione con la politica e comunque con gli uffici pubblici e quali sono le prospettive future a riguardo. Sì, grazie, è un piacere per me poter parlare ancora una volta dei dati nazionali di attività. L'anno scorso abbiamo raccolto dei dati estremamente significativi, ricordo come ho fatto più volte l'importanza del numero di angioplastiche primarie in corso di infarto miocardico acuto che ci ha permesso di superare la sticcera delle 600 per milioni di abitanti. Ricordo il numero delle procedure di TAVI, cioè di sostituzione ortica per via percutanea che ha visto superare le 5.000 in tutto il territorio nazionale. Sono in corso adesso la raccolta dei dati relativi al 2018, siamo a un ottimo punto di raccolta e per questo ringrazio tutti i responsabili e i soci del GISE che hanno permesso davvero che continuano a permettere di avere a disposizione questo materiale che è di grandissima importanza perché ci ha permesso di avere dei numeri sui quali ragionare, ci ha permesso di arrivare alle istituzioni e un esempio è il TeamCart che in questi anni è stato organizzato proprio per fare in modo che le istituzioni, i decisori pubblici, le industrie potessero confrontarsi con i clinici e ci ha dato la possibilità di dimostrare a tutti quella che è l'attività della cardiologia interventistica italiana. Le prospettive, già quest'anno abbiamo ampliato la raccolta dati con alcuni dati clinici in particolare riguardo alla TAVI e questo ci permetterà di avere dei dati anche di quelle che sono le complicanze in certi aspetti del nostro lavoro. Il ruolo fondamentale è quello dei delegati regionali con i quali ci confrontiamo costantemente per monitorare l'attività dei vari centri e soprattutto per verificare quelli che sono i cambiamenti che si sono verificati nel corso di questi anni e cercare di verificare quelle che sono ancora le difficoltà perché come abbiamo sottolineato più volte nel corso di quest'anno i dati ci hanno permesso di dimostrare che l'accessibilità a determinate cure non è equilibrata in tutto il territorio nazionale. Quindi parliamo di numeri ma i numeri ci servono per poter continuare a portare a livello istituzionale le nostre motivazioni in maniera tale che per tutti i cittadini venga garantita la stessa accessibilità a tutte le procedure più innovative in ambito di cardiologia interventistica. Parleremo quindi di questo e anche di più alti in carta a maggio. Sicuramente. Grazie. 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 Grazie.